Sono ingegnere dei trasporti e lavoro presso l'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e ovviamente mi occupo di sostenibilità soprattutto energetica dei trasporti, in realtà io me ne occupo soprattutto da un punto di vista sistemico però ovviamente comincio ad avere una certa dimestichezza anche con le tecnologie specifiche di cui si sta parlando. Allora comincerai l'intervento, ripeto introduttivo, poi i contributi saranno dati dai relatori della sessione parlando di quelli che sono ad oggi gli obiettivi della transizione energetica di questo Paese in generale e del settore trasporti in particolare. Quello che vi riporto sono dei grafici contenuti all'interno del documento della National Long Term Strategies che è stata licenziata nel 2021 e che adesso è in corso di revisione alla luce dell'evoluzione sia delle tecnologie, io penso che soprattutto vogliano inserire il ruolo della fusione nucleare ma non solo probabilmente. E comunque direi che è abbastanza significativa anche in questa versione pregressa vedete a sinistra la situazione al 2019 così come è stato ampiamente detto nel corso delle precedenti sessioni il settore dei trasporti ma non solo è fortissimamente dipendente dalle fonti fossili per il 90% ed in prospettiva se vuole invece arrivare a un mix di energie sostanzialmente rinnovabili in cui un ruolo importantissimo sarà dato dall'energia elettrica seguito dall'idrogeno, idrogeno verde ovviamente e poi un ruolo un po' più marginale è stato attribuito invece ai biocombustibili e ai fuel i combustibili sintetici di cui insomma abbiamo anche parlato nel corso della precedente sessione. Ovviamente questo cosa vuol dire? Che da una situazione in cui i motori sono soprattutto a combustione interna si passerà a una situazione in cui i motori diventeranno soprattutto elettrici. Questo perché alcune alimentazioni saranno lasciate ai combustibili alternativi alle fonti fossili convenzionali. ecco questo è invece il quadro che sempre viene delineato all'interno del documento che sto illustrando e che fa vedere in maniera più quantità, più numerica esattamente quali sono gli obiettivi che il nostro Stato, il nostro Governo sta perseguendo. Ovvero fondamentale è il fatto che si punta a una riduzione dei volumi di trasporto e di mobilità. E questo direi che forse sta in testa a tutto, sta in testa a tutto quanto uno può essere più o meno d'accordo ma è evidente che il nostro Governo ritiene che senza questo sforzo per contenere la domanda di mobilità non si riuscirà ad arrivare agli obiettivi di neutralità carbonica a cui si sta puntando. Permettetemi un commento, mentre posso essere ottimista sulla possibilità di ridurre la mobilità dei passeggeri quanto al fatto che si riesca a ridurre anche il trasporto delle merci in un contesto che sta vedendo un'esplosione del trasporto delle merci per vari motivi, la globalizzazione, l'uso dell'e-commerce devo dire che in questo campo gli sforzi dovranno essere veramente massicci per arrivare a questi obiettivi abbiamo tempo fino al 2050, non sono proprio domani però bisogna veramente fare delle riflessioni importanti e questo è sicuramente il primo aspetto. L'altro aspetto è sicuramente quello dello shift modale si vuole puntare non solo a ridurre la mobilità nel suo complesso e il trasporto merci ma anche a trasferire quote importanti della mobilità individuale e privata per quanto riguarda i passeggeri al trasporto collettivo che sia il trasporto pubblico locale che sia il trasporto ferroviario ridurre sia quindi il trasporto su autovettura privata che quello aereo che sappiamo essere i meno efficienti a parità di unità di produzione di trasporto e lo stesso si vuole fare per il trasporto delle merci lì dove si vorrebbe ridurre la domanda su strada a favore della domanda su ferrovia. Questi obiettivi si trasferiscono anche in parte sulla visione in merito alla composizione del parco veicolare qui sono stati messi a confronto la composizione al 2018 con quella che si vorrebbe al 2050 come vedete c'è anche qui parlando in questo caso del parco autovettura perché i numeri nel documento sono riportati esclusivamente per questo segmento c'è una riduzione drastica del parco da 40 milioni a 24 milioni ed è coerente con quello che abbiamo detto prima e si vuole che la maggior parte di questi veicoli siano elettrici a batteria o full elettrici o ibridi plug-in con una quota minoritaria di alimentazione ad idrogeno e i fuel. Ora questo per quanto riguarda le autovetture, per quanto riguarda i veicoli pesanti il documento è molto meno stringente perché ribadisce la necessità di rivolgersi a una pluralità di tecnologie e considerate le diverse necessità dei diversi segmenti del trasporto merci su strada quindi apre a diverse soluzioni tecnologiche senza fornire numeri specifici. Allora evidentemente io qui lancio una piccola provocazione rispetto al concetto di neutralità tecnologica che cosa intendiamo per neutralità tecnologica? A mio modo di vedere non deve essere dare a tutte le tecnologie che la ricerca e l'industria ci mette a disposizione le stesse opportunità in tutti i settori ma orientare le tecnologie in relazione alle esigenze di ogni settore di mobilità. Quindi io parlerei più che di neutralità tecnologica piuttosto di pluralità tecnologica selettiva e in questo senso mi viene in aiuto questa figura che ho trovato all'interno di uno studio che fu condotto quando il ministero dei trasporti si chiamava MIMS alla fine del mandato di Giovannini e in questo studio che raccoglie pregevoli contributi da parte del mondo della ricerca sia italiana che internazionale viene dato una tabella che indica per ciascun segmento di mobilità quali sono le tecnologie più o meno idonee. Ora uno può essere d'accordo o meno sui risultati della valutazione ma secondo me questo è il risultato a cui dobbiamo puntare ovvero dire, faccio adesso qualche esempio, per il trasporto su piccoli furgoni le tecnologie più idonee dando anche eventualmente una scala di priorità quali sono? Bene, secondo questo studio per i van si mette in evidenza che l'elettrificazione a batterie è particolarmente adatta quindi per tutti i range di distanza che competono prevalentemente al trasporto su piccoli furgoni mentre EDA apre a una qualche possibilità ai biocombustibili avanzati, agli fuel, al gas, al biometano e all'idrogeno. Cosa dice invece, adesso questo era per fare un esempio rispetto a un segmento di mobilità di Light Duty Vehicle cosa dice invece a proposito del trasporto merci di lunga distanza? Ecco, in questo caso ovviamente c'è una apertura molto più importante all'uso dell'idrogeno perché sappiamo che questo, come è stato ampiamente illustrato nella sessione pomeridiana sappiamo che questo riesce ad andare molto meglio incontro alle necessità di autonomie importanti per il trasporto di lunga distanza. Tuttavia questo rapporto non chiude alla possibilità di elettrificare in qualche modo ovviamente qua ci sta anche il discorso delle autostrade elettrificate eventualmente di elettrificare anche con elettricità diretta o a batteria. Poi ovviamente c'è tutto il mondo del trasporto non stradale questi stiamo cominciando a parlare di segmenti che vengono cosiddetti hard to abate rispetto alla possibilità di essere convertiti a fonti energetiche green e lì l'apertura è soprattutto, in questo caso, ai biocombustibili avanzati che sono addirittura lasciati unicamente a questi settori perché questo tipo di combustibili sono in realtà una risorsa scarsa e quindi va fatta una scelta che non è solo intrasettoriale ma anche intersettoriale e questo riguarda non soltanto i biocombustibili ma anche l'uso dell'idrogeno dell'idrogeno verde in particolare ma comunque o con sistemi di cattura perché l'idrogeno ha degli utilizzi preferenziali prima ancora di pensare all'utilizzo nel settore dei trasporti ha degli utilizzi industriali importanti e quindi anche in questo caso bisogna pensare a questa sussiderietà delle diverse fonti in relazione ad un contesto energetico più ampio quindi pensare alle necessità di tutti gli usi finali e creare un compromesso che riguardi tutti i settori finali di utilizzo ecco, insieme al, visto che poi parleremo soprattutto di trasporto pubblico locale ho voluto inserire una slide che proviene dall'OITP che non più tardi del gennaio del 2023 faceva questa valutazione in merito alla possibilità di integrare nuove tecnologie nel settore e per ciascuna tecnologia esaminava diversi aspetti quindi in qualche modo faceva una specie di analisi multiobiettivo seppure di tipo molto qualitativo e per ogni possibilità di alimentazione sottolineava le criticità come potete vedere l'OITP sottolinea diverse criticità anche per le alimentazioni convenzionali lì dove ovviamente per queste non c'è il problema di investimenti troppo onerosi o di costi di manutenzione eccessivi così come sono vincenti da un punto di vista della facilità operativa di esercizio per quanto riguarda invece passerei direttamente alle batterie e all'idrogeno quali sono le criticità che sottolinea l'OITP gli elevati costi di investimento ovviamente e nel caso dell'idrogeno in particolare a differenza di quello che dice invece della possibilità di alimentare bus a batteria il problema è il costo operativo perché sappiamo che attualmente ma anche nella prospettiva di medio periodo l'idrogeno è estremamente costoso costoso all'azienda in questo momento poi si potranno fare come diceva l'ingegner Bottazzi economie di scala nel lungo periodo ma attualmente la situazione è questa poi ovviamente il veicolo elettrico al contrario del veicolo a idrogeno è più critico dal punto di vista della gestione operativa qui forse l'OITP è stata fin troppo generosa con l'elettrico forse avrebbe potuto mettere anche un pallino rosso stando a quello che ci raccontava l'ingegner Bottazzi non so perché abbia parlato di scarsa maturità tecnologica dell'idrogeno in realtà secondo me la maturità tecnologica del veicolo c'è abbastanza certo possono essere fatti dei miglioramenti ma la maturità possiamo già parlare di una certa maturità tecnologica rischi della transizione energetica ovviamente non sappiamo quanto e a che prezzi saranno disponibili i vettori energetici innovativi rispetto a quelli convenzionali ciò che mi ha un po' colpito è stato il fatto che all'interno di questa analisi multicriteriale non fosse presente in nessun modo l'argomento sulla sicurezza che viene un po' a confermare la tesi del professor Malavasi Grazie a tutti